A Lanciano da Marisa Spose le migliori proposte della moda nuziale in uno spazio elegante ed accogliente. Un intero laboratorio dedicato all'handmade che permette alle Sarte di realizzare creazioni uniche per lo sposo e per la sposa. La città si è illuminata, quando ci hai visti lì a parlare, c'è chi si stringe e chi si perde, comunque vada resto tu e per sempre, tanto resto tu ha per sempre. Abiti da sposa, d'alta moda, dedicati ad ogni tipo di sposa. Romantica, elegante, minimal, raffinata, moderna. Capi realizzati a mano e cuciti su misura dalle migliori aziende del settore o da Marisa Spose Lab, perché si adattino perfettamente al corpo della sposa e la rendano protagonista nel giorno più importante, quello del suo matrimonio. Un servizio su misura anche per l'uomo, che gli consentirà di scegliere tra i migliori tessuti e la linea più adatta all'occasione. La collezione Marisa Spose veste l'uomo per qualsiasi tipo di occasione ed evento, abiti classici ma anche tight, mezzi tight e frac, senza rinunciare ad un tocco di modernità e leggerezza, grazie ad un aggiornamento costante negli stili e nelle forme. Ogni piccolo dettaglio è curato al meglio grazie all'esperienza delle consulenti e delle sarte. Le consulenti di Marisa Spose vi aiuteranno a scegliere al meglio, mentre le sarte personalizzeranno e realizzeranno su misura un'opera d'arte unica da farvi indossare nel giorno più importante della vostra vita, rendendo il vostro abito un amore di vestito. Ciò che rende speciale Marisa è molto più della sua pluriennale esperienza come stilista, della straordinaria capacità di consulenza messa a disposizione di ogni sposa e della grande cura con cui segue ogni cliente in ogni fase del lavoro, dalla scelta ai perfezionamenti finali. Marisa è unica soprattutto per la sua bravura nel realizzare i vostri sogni, una sorta di magia a base di stile e grandi griff della moda matrimoniale. Esattamente ciò che ogni donna desidera per il giorno del suo matrimonio. E' facile scappare via L'amore a volte è una bugia Un solo attimo e sono Tua per sempre Conosci bene il nome mio E che importa Se le promesse sono eterne Se non ci credi non fa niente Comunque va da resto Marisa ha una vita dedicata al mondo degli sposi, ma qual è il segreto per avere un'attività di così tanto successo, un'attività così longeva? Effettivamente l'anno prossimo festeggiamo i 30 anni di Marisa Spose E' un gran traguardo, sono stati sicuramente anni impegnativi Che però mi hanno dato tante soddisfazioni E sono felice di poter condividere questo successo con i miei figli, Simon e David Che lavorano con me da diversi anni, che mi supportano in ogni decisione Mi chiedi qual è il mio segreto, ma in realtà non ci sono segreti Serve tanta passione e serve dedizione E poi non bisogna mai fermarsi Guai a pensare di essere arrivati Questo lavoro è speciale, proprio perché è in continua evoluzione Quello che cerco di fare quando incontro una futura sposa E' metterla a proprio agio Lei è chi l'accompagna Provo a capire cosa sogna Come si vede Cosa le fa battere il cuore La scelta dell'abito è un momento importante E mi piace dare il giusto valore all'emozione di quei momenti Il resto lo fanno i nostri abiti Collaboriamo con oltre 40 marchi del settore Tra le più prestigiose, tipo Alessandra Rinaudo, Enzo Miccio Carlo Pignatelli Ma giusto per dirne qualcuno, perché ne sono tantissimi E per noi è motivo di grande orgoglio collaborare con professionisti di questo livello Che creano abiti così meravigliosi e di gran stile E poi il punto molto forte è il nostro laboratorio Gli abiti dei nostri partner sono perfetti Ma quando le nostre spose richiedono delle personalizzazioni, delle modifiche So di poterle accontentare sulla bravura delle mie collaboratrici Che riescono a realizzare dei piccoli capolavori Ma Marisa Spose non è soltanto la bravura delle mie collaboratrici Non è solamente abito da sposa In quanto c'è un'ampia scelta anche per lo sposo e per i suoi familiari Nel nostro atelier abbiamo un intero piano dedicato allo sposo e alla cerimonia Anche lo sposo oggi vuole sentirsi speciale nel giorno più bello Con un abito che racconti la sua personalità e che lo rappresenti Ed è quello che facciamo valorizzando ogni sposo in base alla sua fisicità e ai suoi desideri E poi c'è l'area dedicata alla cerimonia Dove anche i genitori, i fratelli, i testimoni possono trovare un abito che li faccia sentire importanti La famiglia ha un ruolo fondamentale nel giorno del matrimonio E noi cerchiamo di mettere tutta la nostra esperienza a disposizione delle famiglie e dei futuri sposi E David insieme al fratello Simon ha raccolto l'eredità di mamma Marisa La grande passione per questo lavoro Ma quali sono i punti di forza di questo atelier meraviglioso? I punti di forza sicuramente sono una grande ricerca del prodotto Quindi cercare un prodotto che può essere assolutamente innovativo e giovanile Fare una grande ricerca per quelli che sono gli elementi oggi nel mercato cerimonia Che hanno comunque tutta la novità che c'è nel mondo cerimonia Quindi per quanto riguarda la sposa, la cerimonia e l'uomo facciamo tantissima ricerca in questo A questo sicuramente si aggiunge tutta la parte sartoriale che viene controllata e gestita assolutamente da tutto il nostro personale E sicuramente uno dei pezzi più forti che forse ci contraddistingue è proprio mia mamma Che ormai da 30 anni fa questo lavoro E riesce ad avere un'energia che ci porta un po' avanti a tutti oltre che a me indubbiamente Sicuramente anche un personale professionale con tanta esperienza Che sa consigliare la sposa e lo sposo nel loro giorno più importante Esatto, diciamo il personale è formato ormai da tanti anni Quindi diciamo le nostre commesse, i nostri dipendenti sono ulteriormente avvantaggiate in questo settore Perché hanno fatto francamente solo questo Nella loro vita credo sono cresciute un pochettino con noi Io sono cresciuto con loro Si respira un po' un'aria di casa qui dentro Quindi diciamo non c'è assolutamente un rapporto scordinato tra datore e non Quindi diciamo si respira un'aria un po' di casa Altre domande? Ed è quello che forse serve alla sposa per sentirsi accolta a proprio agio Perché è un momento particolare, molto emozionante Che spesso si vive insieme alla propria famiglia Quindi trovare un clima così sicuramente ci fa sentire un po' a casa Diciamo che ogni appuntamento tante volte noi accogliamo i clienti proprio in questi salottini Dove loro si ritrovano con tutta la famiglia E quindi c'è anche un po' una particolare emozione anche nella scelta Oltre che personale credo sia anche a livello familiare Vivete anche un po' le storie dei singoli sposi in qualche modo Assolutamente, ne possiamo raccontare tante Però diciamo che quello fa parte del segreto professionale Grazie a tutti